Come vedete il mix è vario, dai grandissimi ai grandi ai meno grandi, ma che possono diventare più grandi. Il panorama è complesso e mutevole anche perché a quanto mi risulta negli ultimi anni, ma specialmente nell'ultimo anno, c'è stato un movimento di aggregazione piuttosto consistente che proseguirà. Io vi chiedo innanzitutto di partire nel vostro intervento dando tre numeri per spiegare qual è la vostra realtà. Alcuni è nota, per altri meno. Allora, io partirei da Camillini. Buongiorno a tutti. Allora, qualche numero del gruppo. Io vorrei dire qualche numero e poi se lei ci dice tre ragioni che rendono il vostro gruppo diverso dagli altri. Allora, iniziamo con i numeri e poi provo ad evidenziare le ragioni. Allora, il gruppo è innanzitutto una forma di consorzio, quindi sono tutti soci allo stesso livello, è presente in Italia e in altri paesi europei. In Italia sono 160 soci, 250 punti vendita e un fatturato aggregato dell'anno scorso di un miliardo di euro. A livello Europa, oltre mille punti vendita, 3 miliardi e mezzo. Secondo me le ragioni principali è un progetto imprenditoriale, quindi il motivo per cui un rivenditore indipendente è interessato a far parte di un'aggregazione di un gruppo come Big Mat è che c'è un progetto per la sua azienda, per il suo servizio, per la crescita e la cultura all'interno. Due sono binari. Due sono binari. Uno è un brand che esiste da oltre 45 anni e abbiamo visto a Gebau cosa significa su uno scenario europeo avere un brand che mette insieme in fila tanti aspetti e collegato strettamente l'internazionalità che ovviamente è una finestra, è una finestra in questo caso sull'Europa che permette di vedere processi, anticipare delle evoluzioni e quindi credo che chi in Italia cerca un progetto per la propria rivendita gli permette di essere indipendente ma interdipendente nel rapporto di certi fenomeni e dinamiche trova delle risposte adeguate. Mi levi una curiosità, qual è il rapporto tra Big Mat Italia e Big Mat Francia? È un rapporto diciamo di fraccugini, nel senso che c'è un marco internazionale. Quando si arrabbia parla in francese? No, no, sempre in italiano. Big Mat France come Big Mat Iberia, come Big Mat Repubblica Ceca sono paesi con una struttura indipendente che sono collegati a Big Mat International che è la comune casa con il marchio in comune. Ma ci sono delle sinergie? Ci sono fortissime sinergie, io ho anche il ruolo di responsabile direttore internazionale quindi sia sul fronte della comunicazione, sul fronte degli acquisti, su eventi che siano premi di architettura o soprattutto notorietà, abbiamo fatto sponsorizzazioni importanti anche sul ciclismo insieme e si cerca quindi di mettere insieme le sinergie sui campi sicuramente della comunicazione e commerciali oltre quello umano e imprenditoriale di confrontarsi con tematiche e modelli di altri mercati. Bellini, qualche numero e poi ci racconti qual è la diversità tra MAD e Big Mat, qual è la vostra specificità? Eh beh, se no siamo tutti uguali. Allora, noi siamo più belli. È una battuta ovviamente. Allora, vabbè, Gruppo MAD oggi è presente in 18 regioni, siamo solo in Italia quindi è uno dei nostri valori è proprio l'italianità e continueremo ad investire con forza nel nostro paese. Il fatturato aggregato, quindi il giro d'affari del gruppo, è di circa supera i 700 milioni di euro. Sono presenti oggi 220 punti vendita con 178 ragioni sociali aggregate. Da poco abbiamo anche conquistato una regione che si chiama Sicilia, dove non eravamo presenti e in breve tempo, cioè nell'arco di un anno, abbiamo aggregato al nostro gruppo 20 imprenditori siciliani. Quindi questa è la forza, diciamo, dell'aggregazione, soprattutto in territori dove non erano ben presenti attività di gruppi o altri consorzi in genere, insomma. Allora, la diversità tra noi e Big Mat, qual è? Cioè, Big Mat è un consorzio, noi non siamo un consorzio. Noi siamo una SPA, una società di servizi che offre servizi a un network di imprenditori ed è la ragione per cui gli imprenditori scelgono di entrare in Gruppo Made. Investiamo tantissimo in formazione, soprattutto per fare la cultura, creare una cultura distributiva adeguata ai tempi. Sappiamo bene che oggi il prezzo conta, però non è più così fondamentale rispetto ad anni fa. Siamo concentrati su procurare e generare valore, quindi business, ai punti vendita che aderiscono al nostro network. E di fatti ci pregiamo di comunicare al mercato, ai nostri partner, che ci seguono con attenzione, che Gruppo Made è un gruppo di vendita, non è un gruppo di acquisto. Gruppo di vendita perché con i servizi che offriamo, come dicevo, generiamo delle opportunità di business per tutti i nostri punti vendita, aumentiamo la cultura di impresa, cerchiamo di alzare il livello della cultura di impresa nei nostri punti vendita e in più abbiamo anche due aree strategiche che ci differenziano, insomma, in questo caso da Big Mat, visto che la domanda era questa. Una è la divisione logistica, abbiamo quattro piattaforme logistiche e offriamo servizi di stoccaggio e distribuzione di prodotti ai nostri partner della produzione solo per la distribuzione edile e un progetto che si chiama Made Distribuzione che è nato nel 2018, sentendo prima a Gebau quello che stava dicendo, proprio per non perdere dei punti vendita che magari non avevano passaggio generazionale oppure erano stanchi di fare questo lavoro oppure non avevano forza di investimento, abbiamo iniziato un processo di acquisizione diretta e di gestione diretta dei nostri punti vendita. Passaggio non facile per quello che ci riguarda perché gestendo un network di indipendenti abbiamo dovuto convincere, prima di partire col progetto, abbiamo dovuto convincere il network, cioè abbiamo dovuto convincere gli imprenditori che si sono affidati a Gruppo Made, quindi che utilizzano i servizi di Gruppo Made, a capire l'ambito strategico e li abbiamo addirittura coinvolti nel capitale della NUCO quando siamo partiti. Quindi un coinvolgimento totale del network su un progetto strategico di sviluppo e queste sono le differenze principali. A Dinolfi che risponde, prima di tutti i numeri e poi mi dica un po' la differenza sua invece. Beh, come DEC, il DEC ha 20 anni, sono 227 soci, 260 punti vendita, il fatturato aggregato è, non lo so, 700-750 milioni, poi le spariamo qua molto grosse, sono più o meno quelli. Il DEC ha cosa serve e cosa fa. Noi siamo diversissimi dal Big Mat e dal Made che sono più bravi di noi. Noi facciamo altre cose, ne facciamo poche e i presupposti sono quelli, vabbè, sono quelli miei e un po' si vede purtroppo. E poi quelli della emilianità, nel senso che il nostro motto è no foofing, nel senso che cerchiamo di non usare inglesismi, cerchiamo di non parlare di quelle cose che poi nessuno sa bene che cosa vogliono dire, no? E puntiamo a poche cose molto semplici, quindi abbiamo molti limiti, siamo all'opposto di Big Mat, non facciamo sponsorizzazione, non ce ne frega niente del nostro marchio, ci interessa del marchio dei nostri soci, della storia, della cultura dei singoli soci, siamo quindi italiani ma anche localissimi, siamo in 19 regioni. Ciò che noi facciamo è il basone commerciale, nel senso che noi siamo come una Skoda, una macchina low cost o un EasyJet. Costiamo poco, con massimo rendimento. Non buttatevi giù così. No, no. Inter Milan e Juve. No, no, senza tema di smentita, siamo il gruppo con il miglior rapporto qualità-prezzo, nel senso che costiamo poco e diamo un sacco di soldi ai nostri consorziati. Siamo il gruppo con il maggior numero di accordi commerciali, nel senso che per noi avere tanti accordi commerciali è un plus anziché un minus, non è solo un fatto di soldi e di contratti, è un fatto di contatti, nel senso che una delle funzioni principali di un gruppo è fornire al singolo associato la possibilità di approcciare tanti fornitori, cosa che non potrebbe fare se fosse singolo. Poi, perché il DEC anziché qualcun altro? Se ho ancora un minuto ve lo spiego. È come un po' per il sesso, nel senso che il sesso si può fare per conto proprio oppure con altri. Per conto proprio è sicuro, costa poco, è piacevole, non ci sia mala. Fatto invece in gruppo, in gruppo, il DEC e anche loro, siamo un po' delle ammucchiate perché duecento e tanti soci, ci sono anche dei... Ecco, perché il DEC? Io le posso chiedere una cosa? Lei ha mai fatto sesso con una fiscalista? Una fiscalista. Una fiscalista. Io sì, ho 39 anni e poi ho fatto il DEC per questo motivo, nel senso che se proprio uno deve stare in un gruppo, tanto vale che stia in un gruppo di persone simpatiche con idee un po' diverse dalle solite e con un progetto unico che è sempre quello, cercare di facilitare il lavoro dei nostri soci, ma non in teoria, nella pratica, nel lavoro di ogni giorno. Quindi questo è il nostro scopo. Bene, vi vedo belli agguerriti. È uno spirito giusto per affrontare il nuovo periodo. Ma io partirei da qua adesso perché, Orassi, lei, come dire, si immagina quello che si chiedono tutti, ma, come dire, questo esplua. Da dove arriva? Diciamoci ora. Facciamo una breve schedina e ci spieghi da dove arriva. Allora, noi diciamo abbiamo puntato tutto sul super bonus. Uno, perché siamo un'azienda giovane, abbiamo aperto un magazzino nel 2018 e quindi avevamo necessità sia da farci un parco cliente importante e sia a Roma, noi stiamo a Roma, e sia per i progetti che ho in testa avevo bisogno dei soldi. L'unica opportunità che io ho visto era il super bonus nell'edilizia dove noi ci siamo catapultati tutti quanti, non eravamo pronti per affrontare chiaramente nel fatturato, nelle consegne, né tutto quello che ci ha portato, però era l'unica opportunità per noi per crescere. Quindi noi ci siamo preoccupati da trovare i fornitori, quindi principalmente dei solanti, rinforzi strutturali e via dicendo, e praticamente nel 2022-2023 abbiamo puntato tutto su quello. Questo ci ha permesso comunque da farci un bel pacchetto dei clienti. Ma diciamo quanto anche, perché siamo partiti da A. Allora, noi siamo un'azienda che facciamo mediamente 3 milioni, siamo passati a 9 e poi abbiamo fatto 27 e l'ultimo anno 67. Insomma, vedere, forse l'applauso. Però, siccome io sono un po' stronzo, diciamoci, nell'animo proprio. Cioè, l'anno prossimo... Ma allora, noi non ci preoccupiamo dell'anno prossimo, anche perché noi non abbiamo necessità di farci vedere coi fatturati. Noi abbiamo necessità da fare liquidità, da comprare a capannoni e da espanderci. Questo per me è il mio progetto. Quindi io voglio aprire almeno 3 punti vendita su Roma. Quindi anche se noi l'anno prossimo facciamo la metà, un terzo, non ci interessa. Quello che ci interessa invece è strutturarci, che è il processo che stiamo avviando adesso, che è un processo costoso e tosto. Perché a vendere, diciamo, siamo stati tutti bravi, il momento ce lo permetteva. Abbiamo trovato i fornitori, siamo stati anche un po' fortunati. Però adesso ci dobbiamo organizzare. È quello che stiamo facendo. E come vi organizzate adesso? È difficile fino adesso. Eh, certo. Siamo partiti dal gestionale, siamo partiti dalle persone, stiamo facendo un organigramma, tutte queste cose che, insomma, ogni azienda ha bisogno. Però noi per fatturare quei numeri, in quel momento là, non potevamo avere regole. Perché tutti quanti acquistavamo, tutti quanti vendevamo, tutti quanti fatturavamo. L'importante è che si vendeva e si incassava. E quindi noi non ci abbiamo avuto una regola o delle procedure, diciamo, che abbiamo potuto mettere in atto in quel momento. Altrimenti non saremmo riusciti a fatturare quello che facevamo, quello che abbiamo fatto. Beh, sì. Io so che lei ha, come dire, una particolare attenzione assolutamente condivisibile per l'aspetto finanziario di gestione dell'impresa. Nanzo, ci puoi spiegare perché avete cambiato brand? Come funziona questa cosa qua? Si sente, sì. Abbiamo cambiato brand perché sostanzialmente le persone sono fondamentali, quindi Eternity aveva 75 anni di storia, non è un brand che ha creato la nostra famiglia, quindi c'è anche un pochino una tematica di non affezione emotiva, probabilmente, anche da parte nostra. E Vincenzo Zanutta mi ha preso in giro e mi ha detto che nome è megaloman eterno, no? E allora gli ho detto, per scherzare, chiaramente ho detto ma tu metti il tuo nome su tutti i capannoni e chiaramente credo che sia anche questo un fattore su cui si potrebbe discutere in termini di megalomania. Comunque scherzi a parte, siamo partiti dalla radice del nostro nome e abbiamo sintetizzato la parola edilizia nell'infinito, perché se si pensa appunto a Roma, dove siamo presenti da pochissimo, Roma viene definita la città eterna, non c'è niente sostanzialmente di più durevole, diciamo, del bene edile. È sicuramente un brand più attrattivo, sostanzialmente, chiaramente il brand, anche se vendi mattoni, se vendi cemento, è un fattore che può essere differenziale. Basti pensare a S.Lunga, sostanzialmente, che è riuscito a creare un love brand perché le persone vanno da S.Lunga piuttosto che da Carrefour, perché c'è dietro una filosofia che viene espressa attraverso un sistema valoriale molto forte. Riprendendo un pochino la domanda iniziale che aveva fatto, sui tre pilastri sostanzialmente, che non ritengo che siano necessariamente differenziali rispetto a quelli di un Orsolin o di uno Zanutta, perché tutti fondamentalmente abbiamo ben chiare queste dinamiche, però sicuramente persone, formazione e numeri. Le persone, l'azienda è fatta di persone, chiaramente se la qualità media è bassa, l'azienda avrà delle performance che sono scadenti. Faccio un pochino di dualismo con i consorsi, dai, per mettere un pochino di piccante. Sostanzialmente quello che ci differenzia dai consorsi è il fatto che siamo un gruppo, ma questo non significa che nel momento in cui facciamo le acquisizioni i soci debbano uscire fuori dall'organigramma aziendale. C'è questo dualismo che è sostanzialmente tra la figura dell'imprenditore e la figura del potenziale manager. Io credo che questa distinzione, parlo di Leonardo del Vecchio, Andrea Guerra, nel momento in cui andrà a lavorare a Merloni, Merloni gli disse l'Italia è un paese in cui si preferisce avere il 100% di un'azienda che fattura un milione che l'1% di un'azienda che fattura 10 miliardi. Non erano esattamente queste le parole, ma il senso era questo. Io credo nella figura del manager imprenditore. Infatti all'interno della nostra azienda noi facciamo una formazione che è altamente imprenditoriale, oltre che manageriale. Tant'è che i nostri manager, che magari sono ex soci dell'azienda che abbiamo acquisito, faccio il caso di Carini per dire, a Trento che faceva parte di un consorzio, paradossalmente si lamenta del fatto che io non gli dedico abbastanza attenzioni perché c'è un processo di delega forte, di altissima fiducia nei confronti delle nostre persone e parte chiaramente dalla selezione. Io ho fatto centinaia di colloqui perché le persone sono chiaramente fondamentali. E qui concludo con i numeri, chiaramente su cui mi ha dato l'assist. Noi abbiamo un'attenzione che è ossessiva nei confronti dei numeri perché nel momento in cui hai 70 punti vendita, 650 persone in un territorio così capillare come quello dell'Italia, così diverso culturalmente parlando, basti pensare che il forato si chiama scatola in determinati territori e se gli dici forato ti dicono che cos'è. Potrei fare milioni di esempi. Sul secchio da muratore credo che si chiami in n modi diversi e quando arrivi col tuo gestionale è un problema. E quindi il controllo di gestione diventa vitale per un'azienda così capillare come la nostra perché alla fine della fiera se l'azienda non è solida tutti gli altri discorsi vanno a quel paese sostanzialmente. Siccome io non è che voglio farvi litigare, in realtà voglio farvi litigare, diciamoci la verità. No, io vorrei sapere, cosa ne pensate del modello di business, di finanziarizzazione in un certo senso? Io sono ammirato da una storia di questo tipo e sono estremamente onesto. Noi abbiamo avuto una scelta strategica totalmente opposta. Noi abbiamo cercato di evitare il super bonus. Capisco che in una fase di start-up lui ha fatto, come si suol dire nel poker, all-in. E se io fossi stato al suo posto sicuramente avrei probabilmente fatto una scelta di questo tipo. che ha delle, chiaramente, criticità in termini di rischio. Poi io non so come ha gestito il cash flow ed è stata, la sua attenzione è stata sulle parole molto nitide e molto chiara. Vendere, incassare. Se mi avesse detto solo vendere mi sarei preoccupato. Quindi se ha avuto un'attenzione con la gestione del credito e quindi con tutti quegli strumenti finanziari che possono avergli concesso di riuscire a mantenere il cash flow e quindi pagare i fornitori, essere pagato dai clienti, eccetera, 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 se è riuscito a costruire questo tipo di struttura di cash flow allora posso dire che ha fatto la scelta giustissima. Oggi come oggi probabilmente allo stato patrimoniale si ritrova della liquidità che gli considererà di fare degli investimenti. È chiaro che per un'azienda come la mia quella tipologia di scelta strategica non era adatta a quella che era la mia filosofia in un'ottica di medio-lungo periodo. Orsolini, allora due numeri perché qui bisogna tenere dei giornati come negli aeroporti che cambiano ogni giorno ce n'è una nuova più o meno, quasi. Numeri e poi, come dire, le tre specificità. In realtà c'è un numero che cambia ogni anno ed è per noi il numero più importante. Quest'anno il numero è 144. Sono i nostri anni di azienda ed è il numero a cui teniamo più di tutti. Pensiamo che la nostra storia, la nostra tradizione sia un vero e proprio valore e su questo ci teniamo tantissimo. Siamo arrivati alla quinta generazione quindi siamo un esempio di essere camaleontici come vedo qui dietro. In realtà noi siamo ci definiamo una grande famiglia nel vero senso della parola. Mio zio è più mio padre che mio zio i miei cugini sono più fratelli che i miei cugini. E questo numero, 144 prossimo anno saranno 145 è veramente un valore a cui crediamo come ho già detto. Intorno a questo numero noi costruiamo la nostra storia la nostra immagine e cerchiamo di trasmetterla ai nostri ragazzi. Se posso aggiungere l'altro numero il secondo numero è 500 che sono appunto tutte le nostre ragazze e ragazzi che lavorano con noi. Questi due numeri sono i due pilastri su cui costruiamo tutti i giorni la nostra strategia la nostra pianificazione. Credo che l'attenzione alle 500 persone che lavorano con noi i nostri collaboratori sia per noi il nostro focus principale. In un mondo iperdigitalizzato in cui c'è questa interconnessione globale che crea grandissima incertezza confusione fa riferimento ai nostri 500 persone ai nostri 500 collaboratori è il pilastro più importante è il nostro focus principale. Senta ma con la mutata come dire situazione di mercato cambia anche il modello di business delle rivendite della distribuzione o no? Perché qui abbiamo tanti esempi diversi quale scegliere? Credo che ci sia spazio per vari modelli di business sicuramente in base alle dimensioni dell'azienda quando eravamo molto più piccoli qualche anno fa avevamo un modello di organizzazione un modello di gestione ora che abbiamo molti più punti vendita l'organizzazione è nettamente cambiata così come cambierà in futuro quando avremo tutta l'altra dimensione è un mercato un po' più diciamo asciutto chiamiamolo così come dire spinge anche a una riorganizzazione dell'impresa voi ci avete pensato? Non dal punto di vista organizzativo torno sul discorso delle persone delle risorse umane possiamo secondo me affrontare questo momento così altalenante così incerto così nebuloso proprio attraverso le risorse umane e la preparazione delle nostre persone ad affrontare momenti giornate anni budget e piani di penetrazione sempre più complessi per raggiungere determinati risultati che ci diamo come obiettivo di anno in anno quando parliamo con i nostri ragazzi specialmente nelle fasi di appunto come diceva Federico di selezione e colloqui cerchiamo di individuare principalmente tre tre aree sulla persona che riteniamo fondamentali il primo è il talento è quello le persone ce l'hanno o non ce l'hanno cerchiamo di intercettarlo le altre due sono il livello di entusiasmo e il livello di disciplina sono le altre due grandi componenti che noi cerchiamo nei nostri ragazzi come dicevo il talento non si può modificare è quello sulle altre due ci possiamo lavorare quindi cerchiamo quelle persone che con quel potenziale di talento e quel potenziale di disciplina attraverso il nostro programma di formazione supporto accompagnamento delle risorse umane creare quelle squadre sui nostri punti vendita in grado di affrontare il momento attuale e gli anni che ci saranno così incerti e veramente difficile da interpretare ma come la vede come la vede il 2025 per un ottimista come me non la vedo malissimo insomma pensavamo a un 2024 molto peggiore al tracollo e al ritorno come un boomerang ad anni con non dico più più difficili con volumi molto più molto più ridotti quindi in realtà non è stato così e sicuramente non sarà così anche per il prossimo anno Cerone io vorrei passare come dire a una realtà un po' diversa credo da quanto ho capito io non conosco bene la sua azienda anzi le aziende perché ne gestisce più di una ci racconti un po' forse sono l'unico del sud Italia non conosco Edilcasa Caccamo ma sono forse l'unico che è una rivina del sud Italia diciamo che da noi è un altro mondo rispetto a Campania Campania sono a Salerno come rivendita non esistono rivendite che hanno 4, 5, 6, 10 punti vendita ma il 99% è fatto da monorivendita il motivo è secondo me culturale perché da noi il titolare è quello che sta in cassa a vedere se qualcuno ruba qualcosa se ci sta problemi fiscali che abbiamo dalle parti nostre è giustamente il proprietario deve essere il primo che affronta il cliente che arriva infatti nessuno di loro ha punti vendita nel sud Italia penso ah mamma che coraggio questo è il motivo per cui io ho pensato di investire in settori alcuni collegati al mio lavoro e altri completamente diversi ho aperto un'agenzia per il lavoro una start up nel 2019 con altri 4 soci poi ho due aziende che si occupano di costruzione e un'altra che distribuisce materiale edile ai rivenditori della campagna purtroppo non riuscendo ad aprire tanti punti sul territorio perché uno di Salerno è difficile che va a aprire a Napoli o va a aprire la rivendita a Caserta ma perché dice che è difficile no perché io non conosco qual è no no spieghi perché cioè i treni non funzionano l'autostrada è in tasanza diciamo che aprire a Napoli per un Salerno di Talano non è il massimo ma penso che nemmeno per un romano bolognese ci sono dei dei problemi territoriali diciamo ho capito ho capito anche da Salerno a Napoli infatti a Napoli ci sono delle grosse realtà ma siamo tutti quanti con un solo punto vendita da noi si usa molto la distribuzione cioè noi forniamo a tanti rivenditori piccoli ma il rivenditori è un valore piccolo e territoriale ma adesso non voglio portare Iella no no io dico non voglio portare Iella ma diciamo con un mercato che si riduce e come dire rende più come dire non so disponibili molti rivenditori a passare la mano a cedere a dedicarsi alla pesca o altre cose voi come vedete questo siete come dire in un'ottica anche di diventare un polo aggregante no al sud penso sia una cosa ognuno no ma per me sarebbe una cosa molto così sto aprendo uno showroom di 1700 metri quadrati dove venderò mattonelle e termitralico penso che aprirò a febbraio e quella può essere qualcosa che io poi replico in tutta Italia perché lì non farò DDT chi viene deve pagare o fa fattura accompagnatoria o possè soldi sono in realtà diverse no diceva che ha tante attività com'è che riesci a coordinare tutto diceva bene Nessi va bene nell'agenzia per lavoro l'ho fondata con altre tre persone di cui tre erano praticamente ex dipendenti di Quanta che è un'agenzia per lavoro che fatturava circa 200 milioni di euro loro mi hanno detto vogliamo fare questo progetto hanno detto vabbè tanto il 95% delle start up fallisce in 5 anni proviamo alla fine ci è andata bene oggi abbiamo 10 sedi in Italia con questa agenzia che si chiama Apis SRL e siamo 4 soci praticamente che gestiscono l'attività poi sto costruendo devo costruire nei prossimi anni circa 100 appartamenti a Salerno dove ho però sempre sono al 50% con dei soci che sono costruttori non di Napoli di Salerno nulla contro Napoli anzi all'inizio quando inizia a distribuire su Napoli avevo il terrore di vendere sul territorio napoletano che dicevo tutti non si incassa ci sono problemi ci sono pochi rivenditori ma molto solidi sul napoletano non ne parliamo male assolutamente è anche il casertano ho capito Zanutta ma lei invece come dire mi sembra che non abbia questo problema di rimanere nel territorio in frio anzi la pianura padana c'è un'autostrada che va est-ovest ci dia due numeri del suo gruppo e poi le sue specificità bene praticamente la nostra azienda si estende sul nord Italia da Trieste a Torino abbiamo 52 filiali abbiamo circa un migliaio di persone fatturiamo circa 300 milioni diciamo che il territorio su cui noi abbiamo lavorato è un territorio abbastanza omogeneo anche se come dice Federico effettivamente la nomenclatura non è proprio la stessa però diciamo che le logiche della distribuzione sono abbastanza comuni e abbastanza logiche oggi ci troviamo ad affrontare però un mercato che è di nuovo cambiato quindi oggi le preoccupazioni sono non è essere aggregati essere distribuiti essere piccoli essere grandi è capire il mercato di domani e il più veloce a capirlo è sicuramente quello che si adatterà meglio per affrontarlo perché bisogna cambiare l'azienda in maniera strutturale purtroppo a questi cambiamenti di mercato sembra facile sembra dirlo ma credetemi effettivamente non è che ti alzi la mattina cambi vestito purtroppo il mercato sta cambiando sta cambiando molto velocemente le sfide da vincere sono sicuramente due come ha detto il nostro amico della Germania che effettivamente bisogna capire le nuove esigenze del cliente che sono trasformate le imprese non vogliono più il super bonus ma vogliono qualcos'altro e quindi bisogna andare nella specificità del prodotto entrare nella specificità del processo e dopo c'è la seconda sfida è cercare di valorizzare le nostre risorse umane perché anche le risorse umane stanno diventando sempre di meno e quindi dobbiamo elevare le risorse umane per dare una risposta ai nostri clienti sempre più professionale e sempre più immediata quindi ci sono due sfide molto importanti che ci aspettano ci stiamo già lavorando sopra e io penso che da qui si deve partire da questo cambiamento ma lei dice purtroppo non vorrei essere poi linciato qui dai presenti ma in realtà senza super bonus è così che dovrebbe essere capisco che dopo primo secondo e dolce stare un po' a dieta fa male però è un'opportunità anche di regolarsi su un mercato non drogato assolutamente vero il bonus c'è stato lo hanno saputo cogliere chi ha potuto coglierlo però si sapeva che era un plus dato come il bonus macchina c'è il bonus edilizia c'è il bonus domani mattina per andare a fare le vacanze quindi quelle robe lì sono delle occasioni non strutturali e che quindi sicuramente non devono ledere la tua visione il tuo percorso perché se il percorso che dobbiamo andare avanti triplicare e quindi di conseguenza devi andare avanti con cose certe non con fantasia che possono solo ledere un po' il percorso il percorso che è l'equilibrio tra nei prossimi anni è sicuramente vicino a quello che è la filiera i nostri fornitori o noi dobbiamo capire a cosa serviamo noi questa è la nostra redistribuzione però che sia piccolo grande mi sembra una piccola polemica verso i produttori è una polemica non una polemica è una fase di costruzione un equilibrio diverso perché dobbiamo costruire insieme qualcosa di diverso da quello che c'è oggi perché se restiamo divisi come siamo oggi diventiamo noi a cosa serviamo la filiera a fare da banca alle imprese abbiamo solo quello scopo o forse serviamo anche a qualcos'altro allora il produttore che ci usa o noi dobbiamo essere noi essere in grado di essere funzionali per lui e per il consumatore e cosa vi rispondono le imprese che dobbiamo cercare di sicuramente trovare delle strade tangibili per dare un segnale di deviazione a questo percorso perché prima il tedesco diceva appunto che distribuiscono tutto loro in Italia esiste esattamente che il 50% va diretto e il 50% forse va tramite l'online e noi quindi noi a cosa serviamo dobbiamo capire questa realtà se noi dobbiamo essere utili ai fornitori non solo fare da banca alle imprese perché lui giustamente ha detto prima te paghi dopo te carichi che sarebbe però ci toglie ancora quella funzione che è la distribuzione lo stoccaggio l'immediatezza magari spettacolo domani tiro via i diditi però queste sono scelte strutturali sono d'accordo con te però per arrivare lì bisogna arrivare con un percorso di filiera perché non possiamo che io e te domani mattina tiriamo via i diditi e loro arrivano direttamente con Amazon in cantiere no? perché oggi a cosa serviamo ripeto a cosa serve la distribuzione se non diamo valore alla distribuzione dobbiamo creare il valore allora serviamo e quindi la fase tecnica il valore del prodotto del processo dobbiamo essere deve essere in bocca ai nostri risorse umane perché il cliente abbia bisogno di dire per che chiamo quello che così almeno mi dà una risposta se no questa è la mia visione ottimo Eustacchi un modello di business diverso una realtà diversa ci racconti un po' anzitutto ringrazio Utrade e Virginia Gambino per avermi dato questa opportunità per essere qui con i giganti della distribuzione quindi per noi è orgoglio e onore essere qua allora la nostra è una realtà comunque abbastanza datata perché è di casa Caccamo nasce nel 63 quindi abbiamo 61 anni di storia il nome di casa Caccamo rappresenta proprio le radici Caccamo è una piccola frazione di un comune della provincia di Macerata dove si erano stanziati dai siculi ecco perché ha preso questo nome Caccamo noi siamo molto legati al nostro territorio io faccio parte della seconda generazione l'azienda è stata fondata da mio padre insieme ad altri due soci appunto nel 63 e poi la sfortuna ha voluto che sono scomparsi molto giovani e già dal 98 io e mia sorella abbiamo preso in mano l'azienda e l'azienda contava già tre punti vendita appunto la sede a Caccamo poi Civitanova Marche e Cascia in Umbria noi abbiamo inserito un nuovo sito proprio l'anno scorso dove facciamo centro lavorazione legno strutturale quindi abbiamo facciamo la lavorazione legno tetti legno solai eccetera questa è un po' la nostra organizzazione la differenza con gli altri diciamo che io condivido molto le parole di Orsolini perché anche noi abbiamo puntato siamo io e mia sorella da soli non possiamo fare nulla abbiamo puntato sulla professionalità la serietà dei nostri collaboratori i nostri dipendenti noi abbiamo 45 dipendenti più 4 agenti liberi professionisti che sono comunque monomandatari e per noi le cose principali sono aver conquistato negli anni e mantenerla perché conquistarla è più facile e più difficile mantenere la fiducia da parte dei nostri clienti noi operiamo essenzialmente in tre province Macerata Fermo e Perugia e quindi abbiamo uno zoccolo duro di clienti che ci accompagnano da molti anche da 60 anni già stanno alla seconda o alla terza generazione quindi diciamo dobbiamo rinnovarci dobbiamo sempre essere attrattivi nei confronti dei nostri clienti voglio raccontare un aneddoto ma è proprio quello che siamo noi io sono qua con due miei collaboratori il telefono ha squillato fino alle 8 e mezza di sera ieri e ha iniziato a squillare alle 7 di questa mattina quindi noi siamo a disposizione questa è la differenza secondo me che può fare una realtà come la nostra in un'area anche piccola perché siamo comunque la provincia di Macerata fa 300.000 abitanti tutte le marche fanno un milione avete ricevuto un premio al Cersaie però mi dicevano che un aspetto interessante è che voi avete un competitor vicino molto più grande allora in realtà non abbiamo ricevuto il premio siamo arrivati terzi però è un premio legato al nostro showroom di Civitanova Marche noi a Civitanova Marche appunto nel 2019 abbiamo deciso di ristrutturare completamente la sede dove abbiamo lo showroom appunto è una casa colonica di 600 metri quadri che lo showroom era uno showroom tradizionale quindi facciamo molta fatica noi abbiamo un competitor lì a 500 metri forse uno dei competitor più importanti la Fratelli Simonetti quindi abbiamo deciso di cambiare un po' quello che era l'offerta alla clientela quindi elevarci molto puntare tanto sulla qualità ma soprattutto sulle persone all'interno dello showroom abbiamo quattro persone continuiamo a fare formazione continuiamo a farli crescere perché se il cliente arriva e trova qualsiasi persona trova delle quattro sono competenti e sono all'altezza della situazione fai un ottimo lavoro e diventi attrattivo e riesci a comunque a portare via diciamo un cliente a una struttura vicina che ha 6.000 metri quadri di sala mostra dove per ovvi motivi non può avere 30 persone addette alle vendite completamente formate e super efficienti quindi questo è un po' quello che fa la differenza se il cliente si trova di fronte a una persona capace all'altezza magari acquista anche dall'altra parte ma se trova una persona che ancora è all'inizio della carriera è ancora acerba diciamo questo per noi fa la differenza perché riusciamo a distinguerci a portare via quel determinato progetto quel lavoro senta qui abbiamo sentito l'armata made l'esercito bigmat i guerriglieri di deck lei come dire non è mai stato attratto da queste formazioni agguerritissime evidentemente non siamo attraenti noi perché non ci hanno molto ma noi stiamo bene così siamo bene così siamo ben lieti e felici di andare avanti ci piace stare da soli ci piace stare da soli poi per carità abbiamo avuto anche delle esperienze con dei gruppi abbiamo avuto delle esperienze con il gruppo consorzio intesa di pedaso abbiamo avuto un'esperienza è stata un'esperienza diciamo per noi molto positiva perché ha creato dei rapporti con gli altri soci molto profondo anche intenso ci sentiamo spesso abbiamo anche noi continuiamo ad acquistare del materiale da loro non siamo più soci ma per una serie di motivazioni che nel periodo crisi sono scomparse diverse realtà eravamo rimasti in pochi e poi alla fine sono rimasti da soli i soci fondatori ho capito ho capito va bene allora partiamo con un video ma voi rimanete qui